Una sentenza che è un'operazione verità anche sull'inconsistenza iniziale del patrimonio accusatorio. Così il senatore PD Luciano D'Alfonso analizza la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del professore Luciano D'Amico, all'epoca dei fatti, magnifico rettore dell'Università di Teramo, accusato dei reati di peculato e di indebita percezione di sommi ai danni dello Stato per aver ricoperto il doppio incarico di rettore e presidente prima del CDA di ARPA-SPA e successivamente durante la giunta regionale 2014-2019 per la sua nomina svolta gratuitamente al vertice di TUA-SPA. La magistratura era intervenuta a seguito di denuncia, ora però per entrambi i capi di imputazione è giunta a una soluzione piena che il senatore D'Alfonso ha voluto commentare così. Noi dobbiamo fare in modo che l'Abruzzo non conosca più queste esperienze di dolore perché è un dolore demolitivo che rischia di allontanare i bravi, i competenti, i capaci dal sistema della decisione pubblica. A Luciano D'Amico avevamo chiesto aiutaci a mettere ordine nella società dei trasporti, lui ha messo in ordine i conti, ha fatto nascere TUA, ci è stata invidiata a livello nazionale. A un certo punto un po' di denuncismo da parte dei soliti avversari e pozzangheristi, con un sistema dell'accusa che deve rivedere il suo modo di lavorare, ce lo hanno privato, ce lo hanno tolto, ce lo hanno tolto quanto all'entusiasmo del rettore come rettore e ce lo hanno tolto come vertice della società dei trasporti. Noi volevamo, Luciano D'Amico, anche per continuare a lavorare sulla qualità dell'offerta dei trasporti dell'Abruzzo per gli abruzzesi e dell'Abruzzo anche per l'Italia e per l'Europa. Ma perché bisogna arrivare a quelle accuse così gigantografe, che poi si rivelano costruite su niente, tanto che le sentenze parlano di assoluzione per inesistenza dei fatti? Noi dobbiamo evitare che il sistema giudiziario, quando procede e produce, realizzi paura e impaurimento. Perché alla fine ci perde la comunità, in questo caso degli abruzzesi. Noi faremo nascere un'associazione in Abruzzo, associazione 358, chiedendo aiuto agli accademici del diritto, agli avvocati, alle persone anche che hanno patito una giustizia sbagliata. Quante volte poi le accuse si sono rivelate niente. Io sono prova del funzionamento dell'ordinamento, che le garanzie ci sono, ma dobbiamo evitare che lungo la strada dell'accertamento della verità vengano a patire i diritti. Luciano D'Amico, noi avevamo il diritto di averlo ancora come presidente di Tua. Ci deve essere di sarcimento danni. Non è vero che non è accaduto nulla. Qui si è privato ad un cittadino bravo, chiamato dall'ordinamento, a fare il presidente di una società importante, qual è quella che dà diritti ai trasporti, di non poterlo fare più. Perché circondato da un mantello accusatorio che si è rivelato pieno di niente. Grazie.